uno dice basta marcare basta però uno ha superato l'uomo e poi guardi l'uomo guardi la palla cioè sicuramente dobbiamo essere bravi ma con le situazioni lì non è infacile non è facile peccato perché comunque l'occasiono è una moda e sicuramente potrebbe andare a finire magari in un'altra modo